zombie apocalypse ciao ragazzi benvenuti io sono kazi the play e volevo condividere con voi una partita che ho fatto ieri in live con carmine con in arte carolina gamer è un youtuber se non lo conoscete che fa soprattutto live su fortnite e anche altri giochi fate video su altri giochi vi metterò il link in descrizione ieri dopo qualche partita fortnite ha voluto cambiare il gioco e ho detto guarda vado a giocare in giochi così facili da giocare e è andato a giocare in un gioco di biliardo ho detto guardate ragazzi invitatemi che io accetto la vostra richiesta per giocare e giochiamo insieme io ragazzi ho detto guarda perché no sono andato a giocare gli ho inviato la richiesta e mi ha accettato e qua vedete qua c'è lui carmine contro di me e abbiamo fatto sta partitozza ragazzi peraltro già avevo fatto una partita con lui ma è finita subito perché lui è bucato tutte le palle e ha vinto una cosa assurda e poi abbiamo rigiocato e adesso vi faccio vedere la partita ieri ho registrato un attimo mi sento anch'io adesso ecco qua questo era lui in live ho registrato solo la partitozza lui adesso ha le fasciate guardate vedete ha le fasciate e già ne ho bucate due poi ogni tanto sentite anche il rumore delle palle e anche lui quando parla in ritardo perché la live ovviamente va in ritardo quindi e anche adesso vedete il rumore della biglia diciamo però va in ritardo perché la live è qualche secondo in ritardo quindi anche i suoi commenti sono in ritardo ragazzi ecco adesso tocca a me e ho sbagliato perché hai detto no vedete perché non sapevo com'era la velocità qua gli dico che ho sbagliato guarda è la prima volta che gioco tanto che voi facete lo vi faccio la cucina allora ho la casa non tommoci che sta accadendo fai con la cucina le fai le sai lui è napoletano un pezzo ora tocca a me ragazzi guardate sto posizionando la palla là poi ci sono anche altri ragazzi che commentano sotto sono decisori ah non ti preoccupare e lui mi ha detto qua non ti preoccupare perché gli ho scritto che che ieri era da poco che giocavo e non capivo com'era la velocità della stecca e come dovevo tirare ora che l'ho capito un pochettino ma stavo cavando ma ho sbagliato ora tocca a lui ho l'ho qui lui è bravo eh hai visto le ho messo tutte dentro io sono quelle quelle piene le biglie nere eh nere le biglie piene ora tocca a me qua l'ho messa dentro qua mi sembra che la faccio pure sì perfetto ho fatto dei bei tiri qua qua ho sbagliato qua ho sbagliato mo carla vince pure lui ha detto mo carla vince pure perché lui ovviamente era andato in vantaggio aveva messo le biglie tutte dentro guardate qua qua io riesco a fare questo poi qua era difficile fare questa biglia qui e ho detto guarda gli nascondo il pallino guardate gli ho nascosto il pallino guarda qua lui che dice ora mi fa a me vai giù ora mi fa a me ok abbiamo gare vai mi ha ballato mi ha ballato però l'ha fatto uguale guardate che ha fatto ragazzi però ho vinto io perché ha fatto sia la biglia su qua che è la bella volta ho giù perso ho giù perso però è un utile da campione è da dirlo proprio un tiro da campione carla ci sta è il tuo mio ok ragazzi che dire va mai esagerato ok ragazzi che dire questo ragazzo è molto simpatico carmine abbiamo giocato insieme quindi in atto Carolina Gamer stavo dicendo ciccio gamer comunque Carolina Gamer c'è il link in descrizione se vi piace Fortnite lui è molto bravo fa parte degli M1 come squadra a me Fortnite ragazzi purtroppo a me non piace giocarci però se volete vedere qualcuno bravo a giocare anche simpatico andate nel suo canale fare le live la sera anche anche di notte fare live cioè comunque ha degli orari un po' strani comunque iscrivetevi a questo canale così volevo condividere questo video che ho fatto questa partita che ho fatto insieme a lui con Carmine vabbè ragazzi per questo video è tutto vi raccomando andate iscrivetevi sia al mio canale anche a quello di Carmine lasciate un bel like commentate in tanti e ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti